Dramma sfiorata a due passi dal centro storico all'Aquila. Una donna di 34 anni è stata aggredita da tre uomini nella zona del Torrione, mentre era intenta a prelevare denaro da uno sportello bancomat. I rapinatori, che avevano un accento straniero, avevano preso di mira la donna, convinti che aveste già prelevato i soldi dal locale in cui è presente il bancomat, mentre in realtà vi si stava recando proprio in quel momento. Dopo averla avvicinata, hanno intimato di consegnare il denaro, colpendola violentemente con calci e pugni prima di fuggire a bordo di un SUV. Dopo essersi ripresa dallo shock, la donna ha avvisato le forze dell'ordine, forgendo immediatamente denuncia e sono in corso le indagini per cercare di risalire all'identità dei tre malviventi. Il fatto è avvenuto in Viale all'Aquila, la stessa dove nel 2013 sempre una donna fu aggredita nei pressi del bancomat dopo aver prelevato 200 euro.